per ah ma devo oriente почl Porio guardo eh grazie a grazia no etruschi Ma perché non riesco a leggere è un problema Bello Bene ragazzi Etruschi seconda Vado Etruschi Ma monta anche fuori onda Questo lì è andato a me Lo rappresentiamo a Livorno La nostra Ma vai Ma è tanto che stai più a scuola Ma non c'è 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 più a scuola Ma monta anche fuori onda Ma vai prendetemi per i onda No no sono serio Leva la sposta del tuo dito al fondo Eh che cazzo Ma monta anche fuori onda Ma c'è